Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Clash Royale Perché come promesso andrò a shoppare le offerte festive speciali dove andremo ad aprire un baule magico e ben due bauli super magici Tra l'altro le due offerte dei bauli super magici hanno un valore per 5 e quindi ragazzi sono stra mega convenienti e quindi ho detto non posso non farci un video E ragazzi se questo video dovesse raggiungere i 5000 mi piace quindi sotto a mettere tanti bel mi piace Andrò a fare anche un altro gest opening magari avrendo un bel po' di bauli del re leggendario per andare a cercare ovviamente il fantasma royale Che sono riuscito a sbloccare tra l'altro andate a vedere tutti i video che vi siete persi di questi ultimi giorni dove vi ho fatto vedere come ho sbloccato il fantasma royale E ci ho fatto anche un altro video con un troll deck che è proprio questo qui sul fantasma royale Appunto se vi siete persi quei due video ve li lascio qui in alto a destra nelle schede cliccate lì e appunto vi rimanda immediatamente a quei video youtube Quindi mi raccomando dopo aver visto questo video correte a recuperarvi tutti questi altri video E appunto voglio portarvi immediatamente al 2 e se è possibile subito al 3 perché è diventata la mia carta preferita come vi ho detto appunto negli ultimi video Ma ovviamente prima di iniziare il video non posso che augurarvi un buon Natale ragazzi Proprio perché questo qui è il mio ultimo video prima di Natale anche perché questa sera non pubblico niente dato che è la vigilia di Natale Quindi dato che ci sono vi auguro anche una buona vigilia E domani che è Natale non mi sembra il caso di pubblicare video sia perché così mi riposo un po' E sia perché non credo che molta gente si guarderà video appunto il giorno di Natale Quindi ragazzi ancora una volta tanti 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 auguri a voi a famiglia e spero riceviate i regali che avete chiesto Però detto questo ragazzi io spero di ricevere immediatamente il mio regalo ovvero quello di trovare il Fantasma Royale E iniziamo immediatamente dal baule magico quindi dall'offerta col valore per 4 quindi questa qui Ok eccoci partiti appunto con il baule magico che ci dà 1320 di oro Una Valkyria Tre strattori di lisire ragazzi partiamo male perché ci sta dando veramente una miseria di carte rare Veramente male 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 Che oscenità ragazzi questo baule magico che cosa brutta Questo sicuramente non è Natale ragazzi Questo sicuramente non è Natale Io spero che i regali che riceverò il giorno di Natale Non siano paragonabili alle carte che ho trovato in questo baule magico perché sarebbe davvero triste Mamma mia ragazzi che brutto baule magico Però abbiamo ricevuto l'oro e le gemme che ovviamente non fanno mai male Tra l'altro oh mio dio che cosa sto vedendo lì dietro Un'immagine fantastica non vedo l'ora di vederla per intero Sperando che ovviamente questo baule super magico non sia paragonabile appunto al baule magico di prima Abbiamo trovato subito 73 bombaroli 52 scaricuccioli che ci stanno perché ovviamente è una carta nuova 5 dei cacciatori anche loro ci stanno Abbiamo trovato tutte le comuni che è il barile d'ossa Tutte le rare forse comunque possiamo portare il mini pecca al 10 che è tanta roba Oh la leggendaria e tra l'altro possiamo portare anche il cucciolo di drago a livello 7 Ci sta tantissimo questo baule super magico Grazie Royale non potevi farmi di nuovo un baule schifoso dopo quello che mi hai fatto aprire prima Ma adesso mi faresti un regalo ancora più grande se ci fosse il fantasma Ti prego no dio Allora voi sapete benissimo che lo stregione elettrico è la leggendaria che sto ricercando di più in assoluto Però ovviamente dopo l'uscita del fantasma royale diventa automaticamente il fantasma royale Però ovviamente sono contento perché possiamo quasi portarlo a livello 4 Ci siamo quasi quindi raga sono comunque contento Abbiamo trovato sia il cacciatore che gli scaricuccioli che sono le due nuove carte E possiamo portare il mini pecca al 10 e il cucciolo di drago al 7 Che è sempre tanta roba quindi ci sta Questo secondo baule ci sta ovviamente sempre con l'oro e le gemme E mamma mia che spettacolo Non so se avete visto il trailer del fantasma royale che è qualcosa di spettacolare Ma mamma mia che disegno Mi piace davvero da morire Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto tra i commenti Comunque vediamo un attimino No 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 non abbiamo capito eh Non mi puoi sprecare gli skip con solo una carta rara No No Ok ci ha dato tutte le comuni Cosa è successo? Cioè ci sta dando prima la leggendaria e poi ci darà la La L'epica Ma è successo raga Da quando c'è il Il nuovo diciamo tra virgolette la nuova grafica Che ti fa vedere quando esce la leggendaria Ma è successa una cosa del genere Però dai dammi il fantasma Ah vabbè la strega notturna ci sta Ci sta ci sta ci sta Comunque raga Se vi ricordate bene Un bel po' di tempo fa Avevano messo questa cosa che nel super magico La leggendaria usciva prima della epica Proprio perché ormai sapendo il settaggio dei bauli Sapevi quando ti usciva la leggendaria e quando non ti usciva E quindi per creare un po' di suspense Diciamo così Ti appunto ti faceva trovare la leggendaria prima Solo che adesso col fatto che c'è la nuova grafica Non ti crea niente Cioè lo sai che c'è la leggendaria Quindi un po' inutile Però vabbè 27 veleno che non son male Però purtroppo ragazzi Non abbiamo trovato il fantasma royale Però ragazzi che spettacolo L'immagine qui dietro Veramente ragazzi È qualcosa di fantastico Molto molto bello Comunque raga Mi raccomando raggiungiamo i 5000 like Per il fantasma royale Perché lo dobbiamo assolutamente trovare Quindi andremo a fare un chest opening Con questi nuovi bauli a 5000 like Quindi mi raccomando Io vi auguro ancora un buon Natale Buone feste Buona vigilia O so che questo video è durato poco Ma raga volevo fare giusto questo chest opening Per augurarvi un buon Natale Anche perché nelle mie intenzioni C'era appunto anche il fatto Di non pubblicare anche quest'oggi Quindi vigilia è Natale E lasciarli liberi Però c'era da fare il chest opening Ho detto Vabbè dai Facciamolo per augurargli Ovviamente buone feste Quindi raga Ancora una volta buone feste E raggiungiamo i 5000 like Iscrivetevi al canale Per non perdervi i prossimi episodi Per me è tutto E noi ci troviamo dopo Natale Con un prossimo video Ciao raga Ciao